Ciao a tutti sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video Voglio subito aggiornarvi con quello che è successo con Crypto.com negli ultimi giorni Ieri volevo farvi il video però non sono uscito in tempo quindi ci sono oggi Sono novità positive che non mi sarei mai aspettato in MerMarket Quindi restate fino alla fine assolutamente Voglio anche parlarvi del prezzo di CRO Farvi una piccola analisi perché è da tempo che non ve la faccio Detto questo adesso iniziamo subito Però prima di iniziare se volete supportarmi lasciate un mi piace a questo video Basta un click e se non siete iscritti iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi Adesso possiamo subito iniziare e passiamo un attimo ai grafici Per quanto riguarda i prezzi su CoinMarketCap vediamo che Bitcoin in questo momento è sempre sui 19.000 Tra i 19.000 e i 20.000 ormai da tempo Lo stesso anche per Ethereum sta sempre lateralizzando in questo range di prezzo dei 1.200-1.300 dollari Però soprattutto vediamo che qualcosa si sta muovendo per quanto riguarda le altcoins Il mondo in generale delle altcoins Vediamo Aptos che è una criptovaluta che viene chiamata anche la Solana Killer Quindi che va a replicare quello che fa Solana e dovrebbe farlo meglio Però a quanto pare non è stata molto efficiente e ne potremo parlare in un video Fatemi sapere nei commenti se siete interessati ad Aptos e la sua criptovaluta Per quanto riguarda invece CRO in questo momento che sto registrando si trova al 26.000 posto Il 27.000 ottobre cioè lunedì Questo perché si sta muovendo qualcosa di importante per quanto riguarda l'exchange Infatti è diciamo sarà annunciato tramite la pagina ufficiale twitter di Crypto.com institutional Che ci sarà un cambiamento per quanto riguarda l'exchange Questo aggiornamento viene chiamato Generation 3.0 di Crypto.com Exchange Questo qui è l'annuncio ufficiale da parte di Crypto.com Perché vi dico di stare molto attenti a quello che sta circolando tramite pagine importanti Ad esempio anche come Cointelegraph Anche io vi portai un articolo di Cointelegraph settimana scorsa Che era totalmente sbagliato Che diffondeva notizie false Quindi per questo date un'occhiata sempre ai contenuti che vengono pubblicati Sulle pagine ufficiali di Crypto.com e sul profilo ufficiale twitter Poiché ripeto ancora che stanno girando notizie fake Per adesso non è cambiato nulla Anzi Crypto.com ha annunciato l'exchange Generazione 3.0 E anche qui viene specificato che nonostante siamo in una situazione molto drastica di bear market Le persone si stanno disinteressando al mondo crypto Loro continuano ad espandersi e a migliorarsi Perché prima o poi ragazzi questo bear market finirà Arriverà di nuovo il bull market Sicuramente i prezzi si riprenderanno E tantissime persone ancora conosceranno le criptovalute Investiranno E chi ha investito adesso sarà felice in futuro Perché i prezzi saranno di nuovo alti Almeno per le maggiori criptovalute Quelle più capitalizzate Con i progetti più seri Come ad esempio CRO Detto ciò Qui viene spiegato che verranno fatti alcuni miglioramenti importanti Qui vediamo una scaletta Con tutte le novità che ci saranno Con l'exchange 3.0 Ad esempio Trasferimento e l'esperienza di trading intuitivi e più fluidi Ci sarà possibilità di accedere a tutti i prodotti Da un unico portafoglio Questa cosa è importantissima Margine con un click Supporto collaterale Cross market Ci sono tantissime novità interessanti Che renderanno migliore l'exchange stesso E quindi vi invito a leggere questo articolo Che ripeto È davvero importante Prendendo il grafico giornaliero di CRO Vediamo che di nuovo abbiamo toccato Questo supporto agli 0.10 in questi giorni Precisamente l'11 ottobre E fortunatamente il prezzo ha avuto una forte domanda Ed è salito fino agli 0.11 E soprattutto siamo anche scesi al di sotto Gli 0.10 toccando gli 0.960 In questo momento che sto registrando Invece siamo sugli 0.10 E siamo su questo supporto abbastanza importante Che abbiamo toccato più volte Sia come supporto che come resistenza Pare si stia creando una bull flag Quindi il prezzo potrebbe lateralizzare in questo modo E continuare a salire Se il mercato cripto ovviamente permette Perché ricordiamoci che la situazione generale è davvero drastica E solo una situazione generale migliore Potrà far diciamo riprendere il mercato cripto Quindi restate sintonizzati Perché appena posso vi aggiorno sempre Inoltre se prendiamo ad esempio l'RSI Vediamo che siamo in una zona neutra per il prezzo di CRO Quindi senza nessun problema Possiamo continuare a salire E raggiungere una zona di iper comprato Questo è positivo E soprattutto ancora Se guardiamo il MACD Che sarebbe questo qui Qui in basso Vediamo che è avvenuto un incrocio bullish Vedete la media Questa qui blu La media del MACD Ha incrociato la media arancione E è avvenuto quindi un incrocio bullish Sotto il punto 0 E questo significa ragazzi Che c'è ancora potenzialmente Possibilità di andare verso l'alto E crescere Ovviamente questo non è sicuro Perché potrebbe essere anche un falso allarme Cioè un falso segnale E il prezzo scende di CRO Però di solito Quando avvengono sotto la media 0 Degli incroci bullish Potrebbe essere positivo Per quanto riguarda il prezzo Poiché la linea del MACD sale E potremmo vedere il prezzo di CRO Ovviamente reagire positivamente Ah cosa importante ragazzi Da domani parte una promozione Molto interessante con Bitcat Che avete solo tramite il mio link E sono davvero contento di questo Sarà disponibile dal 20 ottobre Fino al 28 ottobre Solo per 8 giorni Quindi se depositate 200 dollari Vincete fino a 100 dollari Qui leggete tutte le informazioni Però questo sarà possibile Solo da domani Quindi vi aggiorno in questi giorni Restate sintonizzati Ripeto per adesso Vi conviene registrarvi Col mio link Qui in basso in descrizione Avete il 5% di sconto Sulle fees E da domani C'è questa promozione Che reputo davvero interessante E avete possibilità Di depositare 200 dollari E vincere fino a 100 dollari Quindi dategli assolutamente poi Un'occhiata E' anche uscito Il video nuovo Sul secondo canale Insieme ad Emilio In cui copriamo L'aspetto dei mercati tradizionali In questo caso S&P 500 Nasdaq DXY E' molto importante Per capire poi L'andamento del mercato cripto Per questo vi invito A guardare questo video Che già sarà uscito In questo momento Che sto parlando Quindi dategli assolutamente Un'occhiata Perché il mercato tradizionale Merita tantissima attenzione Soprattutto le informazioni Che Emilio vi da Sono davvero d'oro Perché spesso Riuscite a predire I movimenti E poi i mercati Reagiscono di conseguenza E anche in questo caso Il mercato cripto Perché Bitcoin In questo momento E' su 19.210 E comunque Reagisce anche in base A quel mercato tradizionale Cioè S&P 500 E' quello che succede Sul Nasdaq Ormai lo sappiamo C'è questa correlazione Purtroppo E' così Detto questo Siamo sempre In estrema paura Per quanto riguarda Il Bitcoin Fear And greed index Purtroppo Ormai è da tempo così Dobbiamo solo aspettare Che il mercato Si riprenda Questo potrebbe essere Un buon momento Per fare dollar cost averaging Cioè andare a comprare Una volta al mese Una volta Ogni due settimane Bitcoin Per un anno Due anni Così il prezzo Viene mediato E non c'è bisogno Di fare trading Cose assurde E sicuramente Se avete Un margine di tempo Molto molto lungo Il vostro investimento Si apprezzerà Date un'occhiata Anche a Young Platform Avete 10 euro di bonus Tramite il mio link E soprattutto C'è anche possibilità Di far parte Di un academy Dove studiare Le criptovalute La blockchain Questo è il momento Adatto per studiare Se investite I vostri soldi Tramite Young Platform A fine anno Non c'è bisogno Di fare la dichiarazione Perché un exchange Italiano E tutti i vostri Movimenti Già sono dichiarati Al suo interno Quindi vi consiglio Young Platform Se volete fare Un dollar cost averaging Acquistare ogni mese Ogni due settimane Ogni settimana Eccetera Grazie mille a tutti Per la visione di questo video Se vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Se non siete iscritti Ragazzi Iscrivetevi assolutamente Al canale Noi ci vediamo domani Con la prossima avventura Ciao a tutti